Silvana, sei scappata come un treno, ti ho chiamato. Che c'è? Sto malissimo, sto malissimo, c'ho il colpo della strega, c'ho il colpo, il blocco della strega, come si chiama? Sto sereno. Sto sereno, ma io non mi posso muovere, la gente l'aspetta. C'ho il blocco della strega, vai a chiamare Giacomo, per favore, che sto male. Ma mia, stavo tru, Giacomo. Stavi tru, vieni. Non so, ma che c'è? Che ha fatto per lei? C'è Aldo? Ha fatto un movimento. C'ho il blocco della strega, il colpo, il colpo della strega. Qua ti fa male? Sì, sì, non mi fa male. Non mi posso. Aia, ha messo male, questa è sciattica. Giacomo, va, vai aia. Facci il studio, va. Aspetta, aspetta. Ma è troppo duro. È sciattica dura. Senti che roba. Giacomo, Giacomo. Ma qui, secondo me, c'è l'interessamento anche della vertebra all'ovare. Giacomo, facciamo un'iniezione. C'hai la cassetta della... Digni che ti voglio parlare, Giacomo. Facciamo una puntura. Giacomo, ti vuole parlare? Non una puntura. Sì, perché è la cosa più immediata. Aldo, sono prima ancora chi attore, sono infermiere. Lo so, lo so, ma fammi una manovra. Non mettere il becco. Ma dammi la manina, stai sereno. Sì, ti do la mano. Ho capito. Allora, Giova, prendi questa qua. Sì, ok. Allora, avete deciso per la puntura? Sì, slacci i pantaloni. Sì, slacci i pantaloni. Facciamo un segno, Giovanni, adesso col pennarello, così per centrare giusto la... Perché è un po' di anni che non faccio le punture. Sì, ho capito. Non conviene fare una manovra? No, non una manovra. Allora, facciamo qui. Aspetta. Disinfetto. Questo è il bersaglio. Come il bersaglio? Direi, il punto lo facciamo qua. Ok, che buono. Disinfetto, Aldo. Sì. Cosa fai? Mi cancella il segno? Ah, cavolo, non togliere perché... C'è, si vanno... C'è, si vanno... Devo fare il segno, qua, qua devo fare il segno. Oh, lasciamelo lì. Fate vedere lì, lasciamelo lì. Ok, dai. Ok, guardare. Ho fatto il segno. Ho fatto il segno. Ho fatto il segno, adesso faccio la puntura. Si dà una... Portarene, eh? Aspetta, dai calmo, dai. Ma io sono calmo, dai. Non mi state dando il tempo di giudicare. Sono d'accordo, eh. Meno tempo passa... Oh, più... Non ti fa male, capisci? Sono coraggioso, sono coraggioso. Scusa... Faccio panne, va. Ho capito. Me la posso fare anche da solo? No, no, lasciamore la mano. Ti sto dicendo che... Ce l'ho il coraggio. Dammi la manina, sta al giorno. Guarda, 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 guarda. Falla, falla, dammi la mano. No, no. Mi fanno, porca miseria. Non lo so, siete inquietanti voi due? Ma qui, tanti. Mamma, che ti fa male. Aspetta, perché... Dove vai? Vieni qua, che deficiente. Rettino, vieni qua. Dove vai? Aldo, 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 che si chiemo. Aldo, vieni qua. Giacomino, aspetta. Vai, che rettino. Vieni qua. No, è preso. Prendila, aspetta. Sono pronto, sono pronto. Atta, dico. No, 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 no. Sì, sì, dai, ecco. E l'abbiamo, hai fatto così? Eh, ho fatto una dose bella. Eh, no, ma dico, hai fatto... Dai, fatto. Ma scusa, non mi sembrava la voltaren quella che gli hai fatta. Così l'hai fatto? Era finito il voltaren. Così? L'hai fatto il collutorio. Collutorio non si usa per la gola? Sì, così gli migliora anche l'alito e la recitazione. Ah, sì? E' più che collutorio al muschio artico. Ah, eh sì, in effetti, guarda, è andato proprio come gli orsi bianchi. Il letarco. Annar París Sì, sì, in effetti. Sì, sì, INIijal him. L'olio è un gu speakers Isorista